Come faccio a capire che si è trasformato? Cioè, se lo uccido adesso non... Cioè, come... C'avrà anche un down, che è? Un down, punto La Fury Vabbè, zi, è impossibile che lo shotto già adesso, dai A parte che si labile Cioè, devo farlo partire in Fury Parte la Fury e poi lo posso uccidere Giusto? Sì, Andre, sta scritto pure sull'idem Sì, vabbè, ma... Eh, zi, se lo shotto in sto turno Cioè, me ne vado, è un evento di merda Che usiamo Jaguar Er, Jaguaro, Aug Tiete, metto, anzi, Broind Primo per il meme Io, volta, guardate, questo non mi vedo Sempre lo stesso numero, pull, ma non scendere Sfravi il tuo trucco, eh, zi, si striscia la carta di credito Pure a te succede Ah, è già in Fury mode No, almeno che sto turno non lo one shot Cinque euro Non so neanche se è stunna o sila, sto cosa Vabbè Chissà se lo scopriremo No, no, vabbè, zi Se non lo trasformi, non lo fai la missione Se trasformi è forse Ha un bel po' di DR, sto cosa Certo, io non so fino a quanto vuole campare, però Invece cinque euro ho capito, cinque euro Ah, va buono, eh Dato Sei tornato, peccato L'ho fatto due volte e non sono mai arrivato alla Fury Io l'ho fatto al primo troi Ma come non sei mai arrivato alla Fury? Che avendo, è solitamente di merda Ah, è proprio finito Cioè, ora lo posso shottare, no? No, è il Dominos C'ha, Dominos Dai, zi, che mi shotta Dai, che mi shotta Forza, dai, ci credo Dai, zi, mi shotta per forza C'ho Bruni che non tanca Ah Dai, ti prego Fammi un milione di danno Ne ho bisogno, almeno Ma ragazzi Ma che vento di merda, eh Ma Cristo Dio Ma pure Bruni ha tancato Manco post special Che vento del cazzo Vabbè, eh Ci ho provato Questo è solo HP E ho notato Ma gli attivo pure il Dominos Questo fa solo schifo poi Sì, è proprio il Biobroli Custom Che abbiamo testato È proprio lui Gli è andata bene a sto Biobroli Non c'ho l'altro Broli Tech Sto uno Se no era andato Sta pure col Domain attivo, eh Per di Ah, poi gli togli il Domain Sì, lo puoi debbaffare Ah, bello sto boss Buono Perlomeno stanno scendo eventi Dove usare i personaggi nuovi Ti dà un aiuto, sai Sai, fai Domain contro Domain Ti ce l'ha più grosso Buona sera È possibile Domain Dominos Broli Che distrugge Broli Che poi affrontare Biobroli con Plane di Distraction Perché? Ecco che a mo' è pure Debaffabile Vabbè 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 Se potessi portare più item avrei fatto pure la missione di Mr. Salana Però è Cioè, così lo stesso di Vabbè 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 Ma lo fai pure tutto Con l'Ability Free 42 milioni Vabbè Mi sa che non avrà una bella vita Sì C'è più roba da farm adesso Che In due parti Di KK Vabbè Vabbè Quando c'è 200 milioni di HP Sto coso Forse qualcosa in più Con 30 milioni Gli ho tolto una barra vita A malapena Oddio In realtà C'avrà 25 milioni A barra vita Tipo Oggi ho trovato Un altro cogetto fisico Buono L'altro Lo sei fatto full No No La parte 2 è durata 6 giorni Abbiamo visto prima Inizia del 14 Fa veramente ride Come cosa Oh Ma guarda chi c'è Broly Vabbè Zimo Broly Inter ti tank a qualsiasi cosa Broly Tech Che ha proprio deciso Di annichilirlo Vabbè Manco lo vediamo L'altro Broly Tech Va bene Vai Broly Int Sei tutti noi Ability 1 Buono Buono Gli serve un po' D'ability Più in alto Anche per i turni di guard Se mori da Broly Int Metti di vergogna Te lo dico Ah boh Impossibile La build Add Visto che c'è Il super efficace Fai add evo Baratela Fiori si è Zierata proprio Sì Una volta che si Trasforma Questo è Questa Abomini Ah Guarda che Broly Ti sta risparmiando E non sta facendo Ad di special Ritieni di fortunato Sì vabbè Per i prossimi Un paio di giorni Hai roba da formare Bio Broly Tech Cadezza Azz Golden Viene menato E manco ci muoio Però Parca troia Per quanto si sta impegnando Manco riesco a morire C'ho pure la remeva attiva C'è Tutto il Golden Che non tancava Niente È possibile Vabbè Scambio Broly Eh non lo so Boh io l'ho fatto Al primo turno Io ho riempito La barra del Fiori Credo Di sia in base Alle orb Cioè se non prendi Abbastanza orb Poi scende La barra Credo Vabbè C'ho gone A ruotare Daie Se ma uso Mister Satana Fammi vedere Se si riempie La barra Cioè seppure Questo è un item Che lo conta Ah io l'ho azzerata Anche se risparcchi Il PC Ho tutti i requisiti Considerate Nella scheda video Allora 660 Richiedere 260 Masticazzi Vabbè Giochi Minimo Quindi Ma non si Trasforma Nell'int Qui ma tipo Diventa Un abominio No Non è Pogli danni In base All'item Che uso Ho usato Mister Sanan E si è azzerato Ho usato Il ciccione Di prima È aumentato Devo solo capire Se mi conta La missione Se no Devo usare L'item Dopo Ma non pensi Io credo Che bisogna Usarlo subito Cioè per farti Vedere le due Fasi Che c'ha Sto biobroli Credo che Serva per quello Perché giustamente Per farti vedere Un evento Con più fasi E ci sono E ci sono i team Che one shot L'unico modo È mettere Un boss Che ha 100% Di R Quasi E devi fare Una determinata Gimmick Per fartelo vedere Il re biobroli Vabbè Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Quindi se usi Il panzone Si trasforma In quello Int Più grosso Mentre invece Se usi Questo Di Mr. Satan Di Mr. Satan Diventa Di Mr. Satan Lui un po' più Skipiti Go Quell'R Non ce l'ho Buonasera Buonasera E tanka pure di meno Rispetto a quello di prima C'ha pure meno vita Giustamente Usi Raider Di Mr. Satan Quando il gioco Vede che ha usato Quella merda E tu dici Ah vabbè Ti aiuto io Si C'ha Molto meno vita Farebbero Le hanno inquinato Troppo E hanno fatto Traversare Ecosostenibile Eh Però Poi va in mare Tipo Inquina Tutto l'ambiente Vabbè Il tremendo è finito C'è Do sto Notorato Go Le Bruni Eh Poi Si C'ha Molto meno vita Più che meno vita C'ha pure meno di Eren C'è Fa tutto schifo Punto Come in stessa lana Si Ti regalo Con la win Con l'altro Se metti I personaggi Di merda Giustamente Ti può far male Con Golden Deck Prima abbiamo visto Ma Continua ad essere Un evento Inutile Insulso Però si imparica La meccanica Ma E' stata sfruttata Veramente male Forse è stato Un po' più difficile Il boss Poteva essere Anche carino Però si E' Dock an event Due barre vite E' bravo Oh qua non lo vediamo Attenzione La special Sui gamma 106 Bravo Bravo Comprimento E abbiamo finito Un evento Molto difficile Mi dicono Anche Come missioni Proprio complesse Ecco Poi chi si lamenta Che non c'è Un planetary destruction Lo fai anche Con il bio bro Leader Free to play Eh probabilmente Ti prendi Il tech Amico E fa Posso fare Un evento di beast Verso sibri Con gone nuovo E minchia Anzi Te lo mangi Lo annichilisci E' uscito il video Oggi sul canale Puoi notare Che fine ha fatto Con I Sì